Ragazzi, oggi noi siamo in spiaggia, non vedete qualcun altro, ma ci sta per vedere tre esercizi a mare per fucilarsi, spaccarsi, morire le spalle. Tre esercizi. Quindi occhio, seguimi! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Seconda andata. Quindi 6, 10. E l'ultima ammazza spalle. Shooter press. Con elastico. Giuro che dopo mi tuffa male. Ragazzi, vi assicuro tre esercizi che vi metteranno a dura prova le spalle. 6 wall climb, 10 pike push up con la massima profondità. Quindi full roam, come direbbero quelli bravi. E 10 shoulder press con elastico. Noi ci andiamo a buttare a mare, vero? Tu che fai? Alla prossima. Ciao, 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 ciao! Ok, dai, via. Aiutala, aiutala. Ok, piccolo aiuto. Non oscillare troppo. Forza. Chiudi forte l'addome. Dai! Vai, aiutala. Vai, aiutala. Tieni vicino l'elastico. Chiudi la pancia. Forte, forte l'addome. Dai, tira! E così si fa! Tira! Apre meglio le ginocchia. Bene. Grande guerriera. Benissimo. 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 Grazie a tutti